Ciao a tutti e a tutti! Oggi ho praticamente tempissimo e quindi mi sto portando avanti perché ho scoperto che a scuola farò l'orario pomeridiano come tutti temevano a quelli a cui l'ho detto e quindi ciò significa che invece di fare l'orario magari dalle 8 alle 2 a scuola farò l'orario dalle 11 alle 5 e quindi anche il tempo per fare video si ridurrà ancora di più e quindi appunto devo mettermi un po' nell'ottica nuova devo abituarmi, orario metro, tutto pranzare a scuola che è una cosa stranissima e quindi mi sto portando avanti adesso che sto ancora facendo solamente 2 ore a scuola anzi fino a domani, poi venerdì si comincia per appunto fare i video e quindi mi vedrete così come appunto nello scorso video in questo video voglio farvi vedere l'update delle mie cover per l'iPhone non vi farò vedere tutte quante le cover perché ve le ho già fatte vedere quindi se volete vedere quelle cover cliccate qua sotto nel link nell'info box e poi continuate a guardare questo per vedere le nuove alcune mi sono state mandate da varie pagine di Instagram quindi se andate sul mio Instagram troverete tutte le pagine taggate sulle varie foto dove vedete appunto apparire la cover e potete andarla ad acquistare visto che io non mi ricordo tutti i nomi delle pagine quindi iniziamo proprio da una di queste che è questa fantastica cover ha magliettina stile moschino inspired perché poi vabbè non è vera io l'ho presa di questo rosa fluo ma c'era anche mi pare verde, gialla, nera insomma di tutti i colori fatta così morbidissima puzza tantissimo di silicone però fa una figura pazzesca poi sempre di questo stile cover un po' pacchianose sempre moschino inspired è questo qua che è il famosissimo Gennarino questo qua appunto l'ho presa nella colorazione classica fiocchetto scritta rosse questa qua è davvero una delle mie preferite in assoluto perché nonostante sia così pacchianosa rimane molto sottile e secondo me è molto molto portabile per tutti i giorni almeno per me poi continuando su questo filone di cover pacchianose ho questa qua è di Starbucks tra virgolette appunto con il logo classico insomma con la faccina la scritta e questo qua sarebbe un frappuccino alla fragola con appunto panna e cannuccia e questa qua è sempre di silicone molto morbido poi ho da far vedere questa qua che ho comprato io da Victoria Secrets a New York ed è questa cover con tutte queste striscettine alcune trasparenti alcune di questo io lo chiamo argento rosa perché è proprio un ramato oro non si sa bene che colore sia ma è fantastico con la scritta Victoria Secrets anche questa è di silicone però è dura nello stesso tempo poi sempre moschino inspired sono diventata ossessionata ho questa qua che mi ha sempre inviato una delle pagine di Instagram dove c'è scritto moschino ready to beer con appunto l'orsetto che graffita la B in realtà sotto ci sarebbe scritto wear anche questa è una delle mie preferite come sfondo bianco e poi c'è i bordini trasparenti di silicone poi ho queste due che non so se ve le ho fatto vedere comunque ve le faccio rivedere che mi hanno sempre inviato le pagine di Instagram queste sono invece Chiara Ferragni Inspired che io penso che comprerò prima o poi quella originale perché mi piacciono tanto queste qua non sono un difetto che perdono leggermente di glitter ogni tanto eh cioè non è che quando fate così vi rimangono i glitter assolutamente no comunque ne ho presa una argentata e una dorata naturalmente anche all'interno sono argentate e dorate poi ho questa qua anche questa è inviata da una pagina di Instagram che ha tipo i popcorn con questo viocchettino a Lello Kitty sempre in silicone poi ho questa cover qua che non so se si vede bene il disegno è una chiappa sogni questa qua me l'hanno regalata dalle ragazze quando appunto ho fatto l'incontro a Roma e questa qua è una cover di Klairs mi pare poi nuova ho anche questa qua che mi ha fatto una ragazza appunto il suo sito si chiama Sweet Cover Deco ha anche una pagina di Instagram insomma queste cosine così e fa delle cover magnifiche questa l'ho scelta completamente io in più quando appunto ve la fate fare scegliete appunto gli abbinamenti come mettere i glitter le cose a mettere sopra lei tramite mail vi manda una foto dell'anteprima appunto se gli date l'ok lei incolla tutte le cosine e ve la spedisce altrimenti gli dice guarda puoi cambiare questo questo quest'altro è davvero fantastica lei come ragazza ha le sue cover appunto io l'ho fatta così pacchianosa al massimo però è fantastica che ha questi glitter sull'argento il rosa e il fucsia e poi con insomma annesse cosettine sopra dello stesso colore più o meno a parte insomma queste qua nere comunque c'è tutto quello che mi piace sopra questa cover e in più nuove ho anche queste tre che mi sono arrivate oggi che avete visto nell'olla precedente che sono questa qua con le palmette questa con queste frecce bianche sullo sfondo appunto rosa e questa qua con la frase di colpa delle stelle che sono del sito covershop.it quindi questo è l'aggiornamento delle mie cover come vi ho detto prima se volete vedere tutte le altre che sono praticamente queste vi lascio link dei non so quanti adesso ne ho fatti uno o due delle cover precedenti così potete andarla a vedere se siete curiosi di vedere le altre naturalmente se vi va condividete questo video lasciatevi un pollicino in su e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete io vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao